Forza ragazzi, basta seguire la ricetta. C'è una persona speciale che ispira Antonio nel lavoro. Ok, una pasticceria o una dark room? Scusa, che ci fai qua? Ho letto un'intervista. Mi hai sparito per tipo tre anni e mo' puff. Ogni tanto il fondo mi manca. Luca è tornato perché voleva a me. Il passato non può tornare. Te credi, piacere. Te credi al mio ragazzo. Io ho iniziato a pensare al plurale. Lo vuoi riconquistare? Serve una strategia. Questo è il posto nostro, no? Ce lo riprendiamo noi. Ma dimmi un po', state insieme? No, 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 sono soltanto soci. È come nel cinema. Mi sei questo sempre peggio del primo. Ciao, cerca Antonio. Per me amare è scegliere, non è collezionare. Tu Luca come la pensi? Ne fai più le curboserate. Perché gli hai raccontato i cazzi di nostra ragazzo tuo? Io te ne credi, non gli ho detto niente. In tutti questi anni mi sono mai scordato di noi. Perché per un cazzo di volta non riesci a stare al posto tuo? E hai già scelto, no? Guarda di che cosa sei diventato. Tu non sai neanche che cosa significa amare. Non c'è più bisogno di te. Gli amici, la mia ispirazione sono loro. E io sto qua. Basta creare una ricetta.